Il primo ospite dell'ESC di quest'anno, quindi il primo talk di stasera, vede la partecipazione di Luca Moroni, che è un vecchio amico del Summer Camp, nel senso che comunque poi da qualche anno ha partecipato, ha anche proposto già in passato dei talk. E riguardo proprio anche ad alcuni di questi progetti, in particolare uno che ha avuto un'evoluzione, della quale poi ci parlerà stasera, e quindi sostanzialmente stasera parleremo del progetto Cyber Security Angels. Quindi, grazie Luca per aver partecipato e per partecipare all'edizione di quest'anno di UnSummer Camp. Ti cedo direttamente la parola, sai che hai mezz'ora per la presentazione. Prima di tutto mi dispiace perché non posso fare un break con la birra come hai fatto tu prima, e quindi sono qua da casa. Allora, ti ringrazio di avermi ospitato e anche di darmi lo spazio per presentare questo progetto, che poi in qualche modo volevo farvi vedere che era già in incubazione nel 2018, quando avevo fatto il talk, appunto diciamo, sempre invitato da Sebastiano, dove presentavo il white paper, quella sul fattore H, e all'epoca appunto lì ho fatto un circolettato un po', era un qualche cosa ancora ibrido, cioè si parlava di Security Angel Alliance. Chiaramente nel 2018 il tempo è passato, però insomma l'idea era sempre questa, insomma, il discorso insomma del fatto che, quindi tenete conto che il progetto è condiviso con Antonio, che è il CEO di Bretton, con cui abbiamo fatto partire questa iniziativa, cioè finché era un po' un qualche cosa così in incubazione, era una mia idea, però poi con lui abbiamo condiviso il progetto e quindi siamo partiti. Quindi il discorso era il fatto che, mi ricordo un giorno venendo il caffè, mi è venuto fuori che tutti si allerno, quindi i cattivi si allerno, mi ricordo che era uscito un articolo che le diverse bande, diciamo, di attaccanti si erano aggregati, che vendori e integratori sono tutti aggregati, gli unici pistola che non sono aggregati sono proprio le aziende. Quindi questa un po' era l'idea e quindi in qualche modo, diciamo, fuori è un mondo ostile e quindi l'ottica è quella di cercare di fare networking fra le diverse aziende. Allora, un po', beh, quella lì è la foto di Antonio e quella lì che vedete è l'estratto della vela, no? Perché comunque qual è lo scenario vero, insomma, la motivazione è anche reale. Che nel momento in cui succede un incidente, sostanzialmente l'intim manager è da solo, cioè non ha sicuramente, deve rendere conto a tutti gli utenti interni per ripristinare i sistemi, tutti che gli chiedono informazioni, i vendor e gli integratori che vedono una grande occasione da piazzare tir di soluzioni di sicurezza e quindi, diciamo, sei veramente da solo e devi difendere, devi ripristinare un po' il tutto. Quindi l'idea è quella, diciamo, di condividere con altri anche questo cammino, diciamo, di sofferenza. Al di là di tutto le motivazioni sono due, quindi questi sono i due spunti principali, che quello lì che vedete circolettato è un punto della 27001, sapete che la 27001 tratta i temi della sicurezza informatica, uno dei presidi, cioè dicono le cose che devono essere fatte, è quello di creare comunque dei gruppi di collegamento, diciamo, per scambiarsi le informazioni. Quindi CSA nasce anche per questo, con questo obiettivo. Il secondo obiettivo è anche quello di cercare di fare un minimo di fronte comune rispetto ai grandi vendor, perché comunque sostanzialmente i grandi vendor, diciamo, hanno un potere totale rispetto alle aziende, soprattutto quelli grandi grandi, perché chiaramente se domani cambiano le situazioni anche in termini economici, il cliente non è che può tornare indietro. Quindi il problema del lock-in è uno degli aspetti, insomma, che si vuole andare a mitigare. Questi qua, diciamo, sono sintetizzati un po' gli obiettivi della rete, no? Quindi scambiarsi le informazioni non è che è una soluzione, non è che il responsabile dei sistemi informativi dell'altra azienda corre quando tu hai preso un crypto locker e ti aiuta a ripristinare il PC, no? Questo non è pensabile. Però, insomma, scambiarsi le informazioni magari sì. Non sono ammessi vendor, integratori e consulenti, perché chiaramente il discorso è quello di scambiarsi informazioni sugli incidenti, uno. E due, anche scambiarsi dei suggerimenti sulle piattaforme o sulle soluzioni. Allora, per il primo, cioè, in caso di incidente è chiaro che se lo dici, e c'è, dico, anche un giornalista nel gruppo, magari esce poi una notizia, insomma, che dopo costa un sacco di soldi per ripristinare il danno d'immagine. E l'altro è che se chiedi una valutazione, dico, sulla soluzione, magari dico, di autenticazione su due fattori, come minimo vieni martellato per un mese da tutti i possibili fornitori di questo mondo che ti vogliono vendere comunque le piattaforme. Un altro aspetto è anche quello, diciamo, di portare avanti, guardando cosa c'è in giro, anche chi compone qualche cosa a livello italiano, il governo ha appena definito che il perimetro nazionale è importante, di società di sicurezza in Italia che hanno qualche cosa da dire sono veramente poco, per cui comunque se ci sono delle idee interessanti, perché no, magari scambiarsi qualche informazione è comunque una parte importante. Ecco, attualmente, diciamo, la prima fase è quella di entrare nel gruppo su LinkedIn. Il gruppo LinkedIn è un gruppo chiuso, quindi viene invitato in quanto partecipante, fai parte di un'azienda e oggi siamo circa 280, diciamo, comunque interessati. Fate conto che è come entrare in una stanza e guardarsi intorno e sentire un po' che aria tira. Però quella è solo una manifestazione, in qualche modo, di interesse. Queste qua sono un po' di valutazioni, diciamo, da parte delle persone, perché tutto nasce in modo molto snello e cerchiamo anche di avere delle persone che si danno da fare, no? E quindi su ogni progetto c'è un project manager, quindi porta avanti, però queste sono un po' di valutazioni che sono state date, che sono anche presenti sul sito. C'è un canale di early warning, diciamo, per lo scambio di informazioni fino a fine anno, eravamo su WhatsApp, poi da inizio anno siamo passati su Signal. Quindi quello lì è un canale aperto dove uno esprime, chiede supporto, valutazioni, espone un problema, avvisa di un possibile incidente, chiede magari un'opinione se gli altri hanno avuto qualche segnalazione. Quindi è un canale aperto, Radio Londra, insomma, diciamo, dove uno esprime i suoi problemi. Qua vi ho riportato un esempio, diciamo, per far capire il concetto che non sono messi vendoli integratori, non anche uno ha la puzza sotto il naso, ma cioè il concetto è che se uno esprime una richiesta su una tal soluzione, ma anche nel mondo open, no, cioè nel senso, meglio open, meglio soluzioni tipo commerciale, oppure avete provato quel tipo di cosa lì, chiaro che uno lo fa solo per avere un giudizio, non perché vuole comprare per forza una piattaforma. E quindi in questo caso l'idea è stata quella comunque di non ammettere comunque, diciamo, entità esterna. Sicuramente l'obiettivo sarebbe anche quello di spiegare gli incidenti, però effettivamente il problema è un po', come si dice, problematico, perché nessuno dichiara un incidente, anche se gli altri sono dei colleghi, il rischio è abbastanza grande, sapete, insomma, che quando succede un incidente la fuoriuscita di informazioni, anche la disclosure, eccetera, eccetera, poi è un danno di immagine. Alla fine ci divertiamo, no, quindi vedete qualche, la spilletta lì che è questa qua, che vedete, è il, diciamo, il gaggettino che ci siamo dati, no, e poi, diciamo, ci divertiamo, insomma, alla fine anche, non è solo una roba, una roba, diciamo, di lavoro. Il concetto fondamentale è il networking, quindi abbiamo cominciato la prima, a fare la prima cena a Treviso, in cui eravamo circa 12-13 persone, e l'ultima, per esempio quella lì che vedete, quella, diciamo, quella in alto a destra, eravamo circa 35 e c'era gente da, dal Friuli, dall'Emilia, e quindi c'erano comunque, ed erano tutte aziende grandi e importanti, insomma. La formula, quando ci troviamo, cioè perché è importante fare il networking per noi, è, diciamo, parlarsi, perché non è solo remoto, è come bere una birra, diciamo, quindi ci si chiacchiera, ci facciamo magari un briefing e poi mangiamo, insomma, l'ultima cena che abbiamo fatto a luglio, eravamo a Villa 40 a Verona. Facciamo dei contenuti con l'obiettivo anche che alcuni raccontano le loro esperienze, gli angeli si raccontano, è un po' questo aspetto sicuramente importante, però fondamentalmente cerchiamo di dare, fare dei contenuti a valore, senza, diciamo, senza le marchette un po' commerciali. E quindi che cosa facciamo? Facciamo dei survei a inizio anno per capire un po' quali sono gli argomenti che interessano un po' a tutti, quindi per esempio qua ho riportato la top, la classifica in ordine di preferenze fra 2020 e il 2021, vedete che quello più interessante, quindi l'argomento era per esempio sui framework di governance e di cyber security. E di fatti poi ne abbiamo fatto uno specifico proprio in quest'ottica qua. Chiaramente anche noi siamo rimasti impattati dal Covid, nel senso che l'ultimo evento che avevamo fatto era appunto a Vicenza, dopo abbiamo trappato tutto e abbiamo ricominciato adesso a luglio. Queste qua sono le cose che abbiamo fatte, andiamo da contenuti magari interessanti, anche a cose un po' più light, tipo non so, la presentazione di Ettore del suo libro, diciamo, la tragedia silenziosa, quella sulla sicurezza per i ragazzi, piuttosto che l'intervista a Carlo Lafrediani, che ci ha raccontato un po', diciamo, la sua visione della cyber security nel futuro. Queste sono le cose che facciamo da qui a diciamo, che sono già schedulate per la fine dell'anno, quindi diamo il patrocinio a un evento che c'è adesso a Gubbio, tenete conto che, giusto per dire anche un po' il valore, mi sembra che ci sia circa una sessantina di persone, di aziende, una decina sono membri di CSA, quindi abbiamo una delegazione a Gubbio, diciamo che è sicuramente importante. Gli altri sono comunque argomenti un po' che interessavano a tutti. L'ultimo è, diciamo, tratta il tema dell'awareness, che è poi la cosa che vi volevo far vedere, perché molto con grande orgoglio vi faccio vedere questo, che è il progetto che abbiamo pubblicato proprio oggi, cioè dopo mesi di lavoro, abbiamo elaborato questo, dei libretti, perché ci è venuta in mente un'idea, abbiamo visto, non so se qualcuno di voi l'aveva visto, hanno fatto dei libretti all'Uni Euro che, diciamo, che parlavano del cyberbullismo e quindi c'era il libretto regalato con il loghetto dell'azienda, ha detto, beh, cazzo, una bella idea interessante, formare le persone è sempre un problema e quindi abbiamo fatto scrivere un libro in modo semplice, sul phishing, che poi è il problema principale, con l'idea di farne una collana, e l'idea è quella comunque di venderla e quindi di trovare, di avere un sostentamento anche dalle entrate della vendita del libro, ma anche la possibilità, eventualmente, per quelli che sono interessati, di brandizzare il libro e di darlo a clienti e fornitori, perché dopo, diciamo, questo è un aspetto, in qualche modo, anche la formazione, cioè SolarWinds insegna che è meglio che spieghi anche ai fornitori che la password SolarWinds, 1, 2, 3, 4, non va bene. Un altro progetto è questo, per esempio, il fatto di andare in giro itineranti a spiegare i temi della sicurezza, perché se tu fai le lezioni, la gente si rompe le palle e quindi il discorso è quello di cambiare e quindi è il problema un po' per tutti è invitare magari i dirigenti a sentire parlare di sicurezza, che è una delle cose più difficili a questo mondo, però se fai un argomento, diciamo, un qualche cosa che interessa, divertente, magari con qualcuno che parla da fuori, fai comunque un po' di divulgazione. Questo è un altro progetto, diciamo, l'idea è quella di fare un CTF scerato fra le aziende, perché insomma, io che seguo il tema della security da tanto tempo, senti parlare di, diciamo, di Blue Team, di Purple Team, però fondamentalmente, scendendo con i piedi per terra, le aziende, diciamo, del nord-est, non sanno neanche che cos'è Red Team, figurati, se gli cambia anche i colori. Quindi, diciamo, la realtà è che un Blue Team, oggi se lo può permettere solo una banca, un istituto finanziario, però magari facendo una squadra scerata fra le aziende, si può pensare di andare a fare dei CTF. Quindi questo è un progetto in corso, insomma, che non è ancora reale. L'altro aspetto è, per esempio, la possibilità di fare consulenze, diciamo, da parte dei membri alle altre aziende, cioè nel senso che, se mi chiedi una valutazione su una cosa, mentre sto mangiando la pasta asciutta, a pranzo, diciamo, nella cena di CSA, è un conto. Se però mi chiedi una valutazione seria, eh, non te la posso dare, e quindi è giusto che venga riconosciuto. Quindi c'è la possibilità di offrire delle consulenze agli altri membri del gruppo, usando, diciamo, CSA come tramite, quindi un'estensione del proprio logo. Beh, qua ci sono altre iniziative, questi sono i membri ad oggi, però sono in crescita, quindi, diciamo, ci sono aziende grandi, aziende più piccole. L'idea era nata, diciamo, quando ne avevo parlato appunto nel 2018, era più un'idea territoriale, però il verbo vola, nel senso che si sta spargendo la voce, quindi comunque abbiamo gente che comincia ad essere di Milano, di Varese, perché proprio questo discorso di, che non ci sono vendori integratori, e poi alla fine è l'unica associazione, insomma, oggi anche in Italia, che ha questa caratteristica. I requisiti sono questi, quindi quello che vi ho detto, quindi, diciamo, lavorare per un'azienda, quindi se vai via dall'azienda, devi uscire da CSA, c'è un discorso legato alla territorialità per il concetto del networking, la firma del codice etico, e il pagamento della quota, ma la quota, tenete conto, nella quota, ci sono dentro anche tre cene, e quindi, fate un attimo dei calcoli, il problema è che abbiamo fatto per due anni, una roba a Bohemian, ci trovavamo, facevamo alla Romana, però a un certo punto, si è ingrippato tutto, perché quando c'era da pagare la sala, chiaramente uno dice, vabbè, masco, io ho mangiato un piatto, e mi tocca pagare anche la sala, e quindi, è un autofinanziamento, praticamente, quindi, più che una quota di adesione, però, chiaramente, viene fatturato, e questo è quello che poi viene dato, quindi, diciamo, hai tutta una serie di contenuti, sono valutati bene, insomma, quindi la gente rimane, perché, diciamo, qualche cosa di interessante da dire c'è, il canale riservato, credo che sia, forse, la cosa più interessante, più importante, perché, veramente, diciamo, le domande, vengono fuori molto spesso, insomma, c'è chi non risponde mai, ma altri, invece, danno, danno dei suggerimenti, che sono molto utili, che valgono oro, perché, comunque, andare a cercare la soluzione migliore, su una certa cosa, è comunque, diciamo, complesso. Questo è, diciamo, un po', un po' CSA, quindi, se avete, qualche cosa, qualche domanda, diciamo, da fare, è un po', è un'idea, diciamo, è un'idea che ha preso piede, nel 2018 era una roba assolutamente evanescente, oggi è un qualche cosa di concreto, e chiaramente, appunto, il progetto, normalmente, a volte parla anche Antonio, anzi, molto più spesso, perché è molto più bravo di me, diciamo, come showman, e quindi, diciamo, stiamo portando avanti, insomma, seguendo un percorso, insomma, che spero vada avanti per un po' di tempo. Grazie mille, Luca, allora, intanto, sono le 21.22, ci sono ancora, eventualmente, alcuni minuti per eventuali domande e risposte, che invito, eventualmente, chi avesse, a farle, tramite i canali chat, sia di Twitch, che in sala, sempre, rivolgetevi a Maurizio, che è lì in sala. E rispetto a questo, intanto, ho una domanda io, e quindi, volevo capire, da un punto di vista formale, com'è inquadrata questa associazione? Sì, allora, diciamo, l'associazione è, proprio per evitare, tenete conto che, in qualche modo, io sono anche fondatore di altre associazioni, anche di show club del Friuli, insomma, quindi altre, altre associazioni, per evitare costi inutili, quindi creare una ragione sociale ad hoc, attualmente, è agganciata all'azienda, insomma, quindi, sostanzialmente, questa è la formula, però, è vive, rimane separata, poi, se la cosa prende piede, probabilmente, creeremo una ragione sociale ad hoc, però, per evitare di avere dei costi, di, comunque, di gestione della no profit, attualmente, è tutto snello, anche perché, non abbiamo grandi, grandi, risorse, nel senso che, Antonio fa i responsabili dei sistemi, della Bretton, io ho altre robe da fare, e quindi, ci ricaviamo del tempo, per fare queste iniziative, però, è un progetto laterale, non è certo la vita, insomma, quindi, cerchiamo di essere il più snelli possibile, se la roba prende piede, sicuramente, sai, ci sono anche dei costi da sostenere, insomma, diciamo, che vanno comunque fatti, dico solo, anche, insomma, per una serie di cose che abbiamo fatto fino adesso, anche se hanno poco, hanno bisogno comunque, di un minimo, di un minimo costo, però, non più delle, delle 300 euro, banalmente, per dirti, una fonte anche di, diciamo, di entrata, potrebbe essere quella del libro, se qualche azienda è interessata a fare, diciamo, divulgazione, e, diciamo, dare un contenuto interessante, con magari il suo brand, compra i libri, e quindi, per noi, è comunque un'entrata. Ok, io ho visto, e voi siete presenti, in tutta l'altra Italia, poi, hai fatto vedere una slide, alcune aziende, ho visto una in particolare, che è, materialmente, vicinissima a noi, dal punto in cui, stiamo facendo anche, l'ensummer camp quest'anno, che è la Texa, tra l'altro è anche un'azienda, abbastanza, abbastanza grossa. ho visto, che comunque, da una parte, aderisce all'azienda, però, in realtà, è una persona, dell'azienda, che viene, in qualche maniera, delegata, quindi, volevo un attimo, capire meglio, questo rapporto, quando un'azienda, si interfaccia, con la vostra stazione, come avviene il contatto, e come poi, si sviluppa? E allora, sicuramente, è fatto da, diciamo, da un'unica persona, cioè, è una persona, c'è una persona, di contatto, ma, ci sono anche aziende, che hanno più persone, che aderiscono, nel senso, che comunque, anche, la formazione, che facciamo, è sicuramente, si giustifica, adesso mi sembra, che ci siano, almeno, sei o sette aziende, che hanno due partecipanti, all'interno di CSA, perché, vabbè, oltre a venire a mangiare, dico, mangiare magari bene, stiamo, insomma, cerchiamo di, non lesinare, su quella cosa lì, visto che abbiamo, solo tre cene dentro, il discorso è, tutti i contenuti, sono a disposizione, e quindi, facciamo, dell'awareness, chiaramente, non tutto è disponibile, no, perché, per esempio, non so, abbiamo fatto, un evento, con Arneg, che, diciamo, che magari, riconoscete, di Padova, dove, lui spiegava, tutte le dinamiche, del, del fatto, che aveva fatto, la certificazione 27001, ma dava i dettagli, in qualche modo, con informazioni, un po' riservate, e quindi, in qualche modo, quell'evento lì, era riservato, solo ai soci, mentre altri, li facciamo, sono tutti disponibili, sul canale YouTube, sono tutti disponibili, e si possono vedere, insomma, ecco. Ecco, allora, non ci sono altre domande, quindi, sei stato, eh, abbastanza, sufficientemente chiaro, eh, da tutti, diciamo, ma, a parte questo, ti, eh, chiedo di ricordare, i contatti, ancora per l'ultima volta, eh, sicuramente, il sito internet, poi anche il canale YouTube, dove, con quelle persone, possono trovare, questi, questi contenuti. Sì, allora, diciamo, c'è il sito, il sito ha tutte le informazioni, che lì, l'abbiamo rilasciato, anche da poco, se no, la, c'è la mail, comunque, diciamo, di, di riferimento, che è moderatore, diciamo, con che può, a cui si può scrivere, insomma, però, fondamentalmente, se qualcuno è interessato, basta che faccia la richiesta, di adesione, al gruppo, Cyber Security Angels, su LinkedIn, e da lì, poi, scattano tutte le cose, quindi, dopo uno entra, e poi, magari, uno gli chiede, ti interessa, diciamo, essere simpatizzante, o vuoi effettivamente, partecipare, eccetera, eccetera, quindi, quello è poi, lo scatenamento, chiaramente, integratori, e, mi spiace, non possono fare la richiesta, che non vengono, non vengono messi, insomma. Bene, allora, ricordiamo ancora una volta, Cyber Security Angels, punto it, il sito internet, dove, insomma, partire per un percorso, anche di contatto, e di adesione, a questo progetto, e a questa iniziativa. Quindi, grazie mille a Luca, per essere stato qui con noi, per aver condiviso con noi, la tua esperienza, la tua conoscenza, e il tuo progetto. Grazie. grazie mille a tutti, grazie mille a tutti. Grazie a tutti.